Sio Carmine buonasera, mi devi fare la cortesia se hai recapito del sindaco di Castellammare di Stabia, di dirvi che non si può fare questa storia, che ogni 3-2 chiude queste scuole, ci ha rotto proprio le palle, ma io non lo so, con me che stanno appena venendo in un malo tempo che stanno a chiusare le scuole, e allora tutti i giorni fanno l'alletto a me che chiudono tutte le giornate le scuole, un'ora come fanno? Non ci arriva da capire che c'è il sindaco, sennò mandiamo il numero di amici, perché non è possibile, che ogni 3-2 stanno a chiusare le scuole, stanno le mamme a vedere se poter mandare sì o no i figli a scuola, non è che si chiude le scuole, è il problema a me se i figli mi chiedono l'albero in capo o una preta in capo, non è il sindaco, oh, no, tu hai mandato un messaggio a te perché tu sai che tu sei il sindaco, questo sindaco, quindi manda un gel, ci ha rotto proprio i coglioni, ogni 3-2 chiude queste scuole, oh.